And now, get ready. Three, two, one. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Deep Teachers Show, playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world. Le vibrazioni house del Deep Teachers Show sono qui per accompagnarvi anche questo sabato sera. Benvenuti su Radio Carina e sul canale 8.6 del digitale terrestre Carina TV. Potete seguirci anche lì e ascoltare tutte le novità del panorama soulful and deep house. Lorenzo Gerbone, Tony M e Davide Padulosi sono pronti a suonarvele. Questa è la nostra prima sequenza mixata. Lesson number one. DJ Davide Padulosi, mixin' for you. GONNA GET, GONNA GET OVER YOU GONNA GET, GONNA GET, GONNA GET, GONNA GET, GONNA GET, gdy Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.